ciao e brutti ciao belli e brutti cosa vuoi dire che oggi mi ha caduto la dentina è caduto un dentino o il primo è venuto topolino stanotte e cosa ti ha portato allora sei stata una brava bambina e saluta ciao belli e brutti buongiorno a tutti allora oggi voglio spiegare veloce alla spicciolata come funziona il lavoro qua in germania allora se avete intenzione di venire in germania la cosa essenziale è trovare subito un alloggio cioè o qualcuno che vi ospita o qualcuno oppure prenderanno un piccolo appartamento in affitto o sennò ci sono delle camere che potete prendere l'affitto e prenderà anche la residenza e vanno più o meno sulle 16 o 17 euro al giorno allora con questo voi andate in comune posto dove dove risiedete e vi registrate con questa registrazione qua potete andare a diciamo alla job center che sarebbe una specie di ufficio di collocamento la vi registrano in base alle vostre ai vostri studi alle vostre capacità vi cercano un lavoro una professione allora un'altra cosa importante è questa se non sapete il tedesco e non sapete neanche l'inglese come me loro per prima cosa vi fanno un patto vai a scuola ti aiutiamo con l'affitto ti aiutiamo coi soldi per queste 17 euro al giorno e qualche soldo da avere in tasca le spese da avere però vai a scuola impari tedesco quando tu hai imparato tedesco ti danno la possibilità di continuare gli studi di poter scegliere informatica o altri titoli di studio sempre con questo budget che adesso non so quanti soldi sono però c'è un budget cioè comunque viversi vive per iniziare oppure in base al vostro titolo di studio prendete mi danno un lavoro in fabbrica o un settore che voi vi piace potete anche scegliere di fare un corso da meccanico o un corso da parrucchiere da parrucchiera c'è comunque o addirittura fare l'autista cioè vi fanno prendere la patente del camion o la patente del taxi cioè vi inseriscono comunque nel mondo del lavoro non vi lasciano così quindi la cosa importante quando si decide di trasferirsi e per quello che so io in germania la cosa importante e cerchiare un posto dove potete prendere una residenza e iscrivervi subito al comune e subito al centro di occupazione per avere subito diritto o a un lavoro se avete un inglese avete un titolo di studio oppure di cercare di imparare la lingua andando a fare questi corsi di tedesco che sono tutti i giorni praticamente 45 ore tutti i giorni cinque giorni alla settimana per una durata di 6 8 mesi mi sembra con questo sistema piano piano già vi verranno delle lettere a casa non solo dopo tre quattro mesi anche in base un po agli studi già con delle offerte di lavoro non so per andare a lavorare alla sera non che bab di andare a lavorare per un pub o una pizzeria un ristorante oppure un'altra alternativa è quella di cercare un lavoro in internet e magari con alloggio ristoranti o cose del genere dove voi inserite con già magari padroni chef italiani dove vi danno da mangiare da bere e anche un posto da dormire dove localizzarvi però ricordatevi sempre di registrarvi anche se avete intenzione di stare tre mesi registratevi sempre in comune perché così avete diritto anche alla sanità medica che qua in germania è molto importante e costa anche fil 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 geld da karkin è tutto da albi è tutto un bacio